cari amici parliamo ancora di virus prendendo spunto da un interessante libro corretto per voi il nemico invisibile storia naturale dei virus di dorothy crovotov e qui questo libro è molto interessante perché si parla in maniera un po nuova dei virus ed è importante per anche capire alcuni alcuni concetti anche per avere una visione globale di questa situazione questa paura di questo timore dei virus che sta appanagliandoci tutti cioè tutti sappiamo che è possibile un ritorno in autunno del coronavirus ma ci sono anche molti virus alla porta che potrebbero presentarsi nei prossimi tempi ora vogliamo di capire quali sono i virus pericolosi quali sono i virus meno pericolosi bisogna andare un po a fondo in questo concetto i virus più pericolosi sono i virus nuovi sostanzialmente i virus che sono nuovi per il nostro sistema immunitario anche se dobbiamo considerare anche i virus vecchi anche quelli devono essere valutati e la differenza tra il virus nuovo e il virus vecchio che il virus nuovo causa delle malattie acute spesso rapidamente mortali il virus vecchio può o non causare nulla o causare delle malattie croniche che possono indebolire portare anche comunque queste alla morte che ci sono sempre poi sono i virus vecchi i virus vecchi sono sostanzialmente i più antichi che conosciamo sono i virus della famiglia degli erpes quelli sono comparsi proprio quando sono comparsi per i mammiferi cioè quando i mammiferi hanno cominciato a diffondere sulla terra e i rettili si sono estinti circa 80 milioni di anni fa assieme ai mammiferi sono comparsi anche questi virus questi erpes virus e all'inizio probabilmente questi erpes virus erano nuovi per il toporanio per questi nuovi mammiferi ed erano sono stati probabilmente molto dettagli hanno creato dei problemi veramente molto importanti ma invece poi passando il tempo passando i millenni c'è stata una sorta di di assuefazione di convivenza reciproca con questi virus adesso noi sappiamo che quasi tutta la popolazione mondiale e ha degli anticorpi ovvero è venuta in contatto con virus della famiglia degli erpes quindi erpes labiales, erpes genitale, varicella, erpes zoster, epstein bar virus, citomegalovirus eccetera eccetera tutti noi siamo ormai a conoscenza di questi virus che se noi facciamo gli anticorpi troviamo in quasi tutti i pazienti e molto spesso questi virus che lo fanno hanno trovato il modo per insinuarsi nel nostro organismo producono la citochina 10 la quale è una sostanza che inibisce la risposta immunitaria quindi il nostro sistema immunitario viene inibito non ha la forza di uccidere il virus il virus sopravvive all'interno del nostro organismo però più delle volte se l'organismo è sano il virus è silente e non combina nulla se invece l'organismo per qualche ragione o perché per esempio abbiamo un'altra malattia intercorrente come l'HIV per esempio o perché si prendono dei farmaci come i cortisonici o altri immunosoppressori i virus si possono attivare e determinare malattie molti importanti quindi tra le quali nel caso del virus di Epstein-Barr banalmente può comparire per esempio una riattivazione della varicella che è quello che succede in molti anziani con la manifestazione dell'erper zoster ma se si riattiva per esempio il virus di Epstein-Barr abbiamo la possibilità che si manifestano dei tumori, una delle cause importanti del cancro sono i virus, questo è il lento virus che trovando spazio in un sistema immunitario non reattivo come una persona di malattia d'età si manifestano come una malattia cronica ovvero col cancro. Questo è un concetto quindi molto importante e l'altro concetto importante è che i virus molto spesso non dobbiamo vederli un po' come quando noi guardiamo la flora batterica intestinale nel nostro intestino abbiamo la candida, abbiamo il distretto cocchi, abbiamo le scherichia coli e così via quindi però in realtà questi batteri mantenuti nella giusta proporzione non sono in effetti dannosi la stessa cosa avviene per i virus e i virus sono un po' particolari c'è una teoria molto interessante su questo di un certo Frank Ryan che dice che c'è una sorta di virus che parassita un individuo e per così dire lo difende dall'attacco di un altro individuo. Per esempio c'è il virus l'antavirus o il virus della febbre di lassa per esempio provocano infezioni devastante degli esseri umani ma sono persistenti e asintomatici negli animali che sono i loro ospiti naturali come per esempio il ratto alcuni ratti dell'africana e così via. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un certo modo il corpo si difende il nostro corpo dall'aggressione di una specie diversa dalla nostra infettando questa specie questa è una teoria estremamente interessante. Quindi noi cerchiamo di occupare, vediamo un altro argomento, un territorio. Noi teniamo conto che i virus diffondono perché? Perché noi stiamo sovvertendo l'ecosistema. Più noi ci spingiamo nelle foreste vergini, nei deserti, negli posti inesplorati e più noi incontreremo degli animali e dei virus che poi per noi sono sconosciuti e che diventeranno estremamente aggressivi. In un certo senso gli animali, ogni gruppo, secondo questa teoria, si difende anche attraverso il suo ecosistema interno, il suo ecosistema fatto di virus. Quindi questo è molto interessante perché in realtà, altrimenti non si capirebbe, perché il sistema immunitario non riesca a sconfiggere un virus. Se non lo sconfisce vuol dire che il sistema immunitario in realtà più delle volte ha bisogno di questo virus, perché questo virus entra in una sorta di simbiosi con l'organismo. E questo è interessante, è come se noi scongiurassimo, diremmo, l'invasione, che questi animali scongiurasse l'invasione da parte di un'altra specie. Ecco, per esempio, noi gli animali ci infettano con i loro virus, noi però infettiamo gli animali e in realtà possiamo anche supporre che, vista la sorta di primato che abbiamo raggiunto su nostro pianeta, abbia tutti gli animali infettati dai virus umani, sono sostanzialmente scomparsi. E noi abbiamo detto, i virus propri dell'organismo umano, l'esempio tipico, come dico, sono questi virus che ci si trattano prima, gli alpesvirus. Questi virus, in realtà se un giorno noi venissimo invasi dagli extraterrestri, sarebbero la nostra difesa contro gli extraterrestri. Questo è un po' interessante sotto alcuni aspetti. Ma veniamo a noi, allora veniamo a noi per dire che la causa appunto di queste pandemie virali che stanno arrivando. La causa sostanzialmente è oltre alla distruzione degli ecosistemi, oltre al fatto che la globalizzazione ci porta che una persona va nella foresta del Congo, entra in contatto con delle scimmie, dei ratti e così via, e poi ci porta dei virus sconosciuti che abbiamo l'esempio del pipistrello, che il pipistrello per esempio è un serbatoio di virus che a lui non fanno assolutamente niente, però il pipistrello fa un po' di urina nella stalla di un maiale o di una mucca e questo maiale e questa mucca si ammalano di questi virus e ne muoiono. Ecco, quindi il pipistrello ha difeso in un certo senso il suo territorio, il suo corpo contro quell'altra persona. Ecco, questo è interessante. Quindi possiamo dire che nel corso degli anni, per esempio dei millenni, vedete, il virus anche del morbillo si è un po' adattato a noi, il virus morbillo non è più letale come una volta ed è stato terribile nelle popolazioni che non conoscevano questo virus. pensiamo che gli indiani americani sono stati distrutti in gran parte non tanto dai cowboy o da buffalo bill, ma dall'arrivo del virus del morbillo portato dagli europei. Questo virus era sconosciuto e quindi gli indiani moltissimi sono morti. Quindi entrare in contatto con nuovi ambienti, quindi questo è il concetto, la globalizzazione pertanto non è qualcosa di buono o forse sarà, oppure possiamo dire dovremo pagare un forte scotto per questa globalizzazione, per creare questo villaggio globale, pagheremo un fortissimo scotto e poi tutto tutto si stabilizzerà. E poi c'è l'altro effetto che i virus si sviluppano dove ci sono degli agglomerati importanti di popolazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che perché un virus possa sopravvivere, possa diffondersi, si è calcolato che ha bisogno di avere almeno 7.000 persone recettive per il virus. E perché ci siano 7.000 persone recettive per il virus si è calcolato che ci sia una città ideale e quella che abbia almeno un milione e mezzo di abitanti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il fatto che ci siano appunto queste megalopoli del giorno oggi, pensiamo a Wuhan, pensiamo a Pechino, pensiamo a New York, pensiamo a Milano, eccetera, favorisce l'esplosione di queste epidemie. Questo è molto interessante. E poi questo lo vediamo anche negli animali, abbiamo visto queste esplosioni, ecco l'altra cosa, città affollate, allevamenti intensivi. Se noi abbiamo un allevamento di salmone, che sono tutti, tra l'altro, geneticamente affini, quello nello stesso allevamento, se arriva un virus del pesce, questi salmone, che sono tutti geneticamente uguali, moriranno tutti. L'abbiamo visto questo discorso per esempio negli allevamenti di maiali. Per esempio in Olanda ci sono, pensate, 14 milioni di maiali, rinchiusi in piccole allevamenti intensivi. Ci sono 9 mila animali per chilometro quadrato. Vuol dire che praticamente se arriva un'infezione, come è arrivata già in passato, milioni di animali vanno a morire. Quindi il concetto è la stessa cosa. E poi queste infezioni che si verificano facilmente in questi allevamenti intensivi sono poi infezioni che facilmente si trasmettono all'uomo. Quindi abbiamo visto alcuni concetti. Allora l'invasione degli ecosistemi, la distruzione degli ecosistemi, la globalizzazione, l'inurbamento eccessivo delle nostre città e poi anche l'allevamento intensivo degli animali. Tutte cose che ci portano a capire perché ci sono le pandemie e che si dovrebbero portare a una prevenzione vera. La prevenzione vera serve ripensare un pochino globalmente la società in un certo senso. Quindi questo è il concetto. E poi anche molto spesso, sì, la vaccinazione certamente è una buona cosa, però non arriveremo mai a eradicare completamente una malattia. C'è stato questo grande strombazzare sul fatto che si è eradicato il vaiolo nel 1980, però in realtà si è visto che adesso già nel 1900, qualche anno fa, incomincia a comparire un nuovo tipo di vaiolo, per esempio. E ci sono pochi casi, però voglio dire, la natura produce continuamente questi nuovi virus. Quindi l'unico sistema è quello di, da una parte, di tenere conto di questo codetto, dall'altra parte inevitabilmente andremo incontro a, come è sempre successo nella storia, come è successo ai tempi della peste, ai tempi dell'epidemia del passato. A un certo punto la popolazione viene colpita, muore una gran parte di popolazione, quelli che sopravvivono sono quelli che sono immuni a questa infezione e l'infezione passa. Un po' lo vediamo, ecco, il paragone che ho fatto qualche giorno fa in un mio podcast, in questa infezione che vediamo adesso c'è già una piccola modalità per capire l'atteggiamento genetico. Abbiamo visto che, per esempio, i soggetti di gruppo A, il gruppo sanguigno A, sono più soggetti ad ammalarsi i rabbiamente di questo virus, quelli di gruppo 0 lo sono meno. vuol dire che una parte, chi sopravviverà, diremmo, in maniera brillante a questa infezione di coronavirus, saranno probabilmente delle persone geneticamente selezionate. Quindi questo è inevitabile. Quindi dobbiamo anche tenere conto che l'uomo incontrerà dei nuovi virus, certamente, se volessimo, diremmo, contenere questo discorso virale, dovremmo fare un controllo sulla popolazione, dovremmo non invadere la Pampas argentina, le foreste e i deserti dell'Australia, le foreste equatoriali, e tra l'altro le foreste equatoriali sono quelle dove si agnidiano più facilmente questi virus. Però questo ovviamente non è possibile, quindi dovremmo rassegnarci che ci saranno sempre queste pandemie e ci sarà una selezione sostanzialmente naturale, oppure l'uomo riuscirà forse a realizzare sempre dei nuovi vaccini e penso che una grande frontiera della ricerca dell'unità sarà quella di sviluppare delle armi antivirali sempre più potenti. Forse riuscirà, grazie a queste armi, a contrastare l'avanzata dei virus. Stiamo molto attenti perché c'è un programma, c'è stato tempo fa, della BBC, in cui si parlava di un virus che si chiama il virus dell'Apocalisse, che sembra sia stato sviluppato in un qualche laboratorio russo, non so, non penso che sia vero, ma c'è questa ipotesi di qualità scientifica, che è un virus, diremmo, che è un'amalgama tra il virus del vaiolo e le parti più geneticamente più micidiali del virus dell'Ebola. Questo è un virus che sarebbe nuovo, che sarebbe altamente resistente, altamente infettivo e trasmesso per via aerea e questo creerebbe certamente una catastrofe a livello planetario. Però c'è da dire che anche in questo caso l'uomo, probabilmente una parte di uomini, sopravviverebbe. Ci sono state già le grandi estinzioni, ricordiamoci che c'è stato un momento nell'evoluzione della Terra in cui l'uomo era quasi estinto, c'era proprio una piccola popolazione da cui noi tra l'altro discendiamo che si era salvata proprio nella parte più meridionale del Sudafrica e da questa piccola popolazione sopravvissuta, a questo periodo di grande siccità, di carestia, eccetera, poi si sono evoluti noi che discendiamo quella popolazione. Quindi abbiamo varie possibilità, abbiamo la possibilità di guardare cosa che sta succedendo, prendere dei provvedimenti, ricercare certamente vaccini e antivirali, fare attenzione a non inventarci armi biologiche, ma anche sapere che comunque, comunque l'uomo non scomparirà probabilmente per un virus da una parte. E anche in fondo i virus nel corretto equilibrio sono una sorta di difesa, forse non tanto per l'individuo, e noi non dobbiamo pensare solo all'egoismo dell'individuo, ma una sorta di difesa per la specie. Come dicevo all'inizio, se arrivano gli extraterrestri, o arrivasse un animale nuovo, diremmo, noi li combatteremmo questi personaggi, questi esseri viventi, non tanto col cannone e con le bombe atomiche, ma li potremmo combattere con i nostri virus. Arrivederci al prossimo incontro. Grazie a tutti.